Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video! In questo nuovissimo video per ringraziarvi tantissimo per i 4.000 iscritti non lo so come è successo così velocemente apriremo una LOL Surprise Serie 3 Wave 2 sono veramente contenta finalmente di averla tra le mie mani scusate se non ho una postazione veramente bella però niente, è stato richiesto la maggioranza detto da confetti pop vabbè, poche persone comunque da molto come lo chiedevate quindi ho detto con il mio amico peloso che tra poco uscirà il video del mio nuovo animaletto e ho delle LOL la LOL lo sapevo già vabbè, ho preso questa confetti sono andata al Toys ed è costata 25,99 euro allora, volevo salutare Unicorn Bevilacqua e Angela Esposito sono gli ultimi due video tra cui l'ultimo video e una live quindi, voi sapete i nuovi strati vabbè, voi li sapete dovete scrivermi giù nei commenti questi due in ordine pure questo pure questa e pure questa e gli altri potete mettermi così nel prossimo video vi saluterò così, tanto per fare un gioco qua abbiamo com'è che si chiama? aspettate che guardo come si chiama? si chiama Sleep Snow Snuggle Baby che è questa qui allora, questa è la checklist perché ho preso la LIL appunto che adesso la prendo la confetti pop ce l'ho nell'odeno quindi adesso non la prendo comunque io ho lei oggi apriremo questa LOL io vorrei tanto trovare innanzitutto unicorn dopo non mi dispiacerebbe punk boy per secondo poi vabbè lei terza eeeh quarta quinta vabbè dopo pure una glitter vabbè adesso sono veramente molto curiosa e apriamo questa LOL perché è durissima adesso incominciamo speriamo che punk boy ho unico non riesco ad aprire una LOL recentemente ma dai ma perché non si apre guardate è personale allora e che significa eeeh boh questo forse o è di questo club o è di questo boh non lo so oddio c'è un buco guardate guardate oddio ho paura speriamo che una LOL che mi piace allora qua abbiamo gli stickers cambia colore sputa fa la pipì piange e poi un altro la bolla è fucsia quindi non è un'ultra rara o rara mennacce aiuto dai però io questa LOL la voglio aprire bene io non ho mai aperto una LOL con fattipop insieme a voi perché perché nell'altro video era uscito male quindi un problema tecnico mi ricordo mi sa che era uscito male vabbè è del di quel club del vabbè quello speriamo di trovare quella che mi piace di più comunque qua abbiamo questo allora vediamo questi qua ho tanta paura ragazzi speriamo di non trovare l'iptoid perché è della wave 1 e comunque allora iniziamo da qui ho capito chi è che carina è la è la sirenetta che carina sì con sicura è la sirenetta sono contenta però è molto carina che carina dopo vabbè io volevo trovare tanto lei mi piace tantissimo però almeno del mare no sei rotta non è che sei rotta sei staccata più che altro qua è il vestitino sì è proprio lei guardate che carino allora questo cos'è il biberon guardate lei è fancy sì invece quella che piaceva a me era popolare perché non mi è capitato quella vabbè dopo devo fare la dosa quindi almeno posso giocare basta no c'è ancora uno che dovrebbe essere l'accessorio e i capelli che proprio mi fanno impazzire quello non ho una forbice c'ho una che vabbè è quella zigzag e non apre molto le cose oddio non ho portato qualcosa che carini ok quindi non manca niente c'è tutto penso ma io pensavo che c'erano pure gli occhiali oh mamma mia dobbiamo spostare qualcosa perché il pop sarà bello forte allora oh mamma mia che bello allora qua c'è la nolle è spaccata vabbè ma quanti però ok non ne ha fatto pop perché ho messo davanti la mano allora noi abbiamo trovato questa è la sua Lil invece lei è lei è qui wow adesso non so come si pronuncia adesso facciamo che carino che è ciao piccolina è bellissima ragazzi mi fa impazzire è bellissima appunto è uscita lei adesso io la voglio vestire è una sirenetta perfetta per andare al mare porterò lei e anche sleeping baby perché lei ha il costume io volevo tanto 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 trovare unicorn ovviamente unicorn in confronto a lei non è però è bella è molto bella profuma tantissimo lei potrebbe fare la cosa misteriosa o vomitare sputare mamma mia l'altra volta ho detto sputare non avete riempito di commenti non si dice vomitare stupida boh vabbè un beppellino oh no oggi è un giorno avrezzato spazio mi capre tutto mi faccio male si esplode il lavandino non scherzo però è quasi rotto no come si è quasi rotto ma cosa sto dicendo c'è esploso ti metterò in bagno ho aperto si esplosa l'acqua ma ho messo le mani la mano vabbè fa ridere è carino ciao fa una sirenetta no non mi scappa e niente mi piace tanto molto bella è una sirenetta super bella ciao è uno stand e niente io sono veramente contenta di questa confetti pop e adesso mi toglierò tutte le cernierine per scartarle di nuovo vabbè ciao finalmente qualcuno dalla mia wave beh almeno io sono della wave 2 quindi dovresti essere contenta sia via Grazie a tutti.